La primavera Con l'arrivo della primavera le erbe infestanti sono tornate a farla da padrone. In ogni angolo della città, non solo i cigli delle strade ma anche le piazzole e le rotatorie sono invase da erbacce, una situazione che andrà a peggiorare nel periodo estivo qualora non si procederà alle operazioni di potatura e diserbamento. Se da un lato il verde delle infestanti può rallegrare e alternare il grigio della città, dall'altro lato sicuramente non rappresenta un bel biglietto da visita per Caltanissetta. In alcuni casi inoltre le erbacce possono anche rappresentare un pericolo, non solo per il rischio di incendi in estate ma anche per gli automobilisti, in quanto a volte rendono difficoltosa la visuale della strada come nel caso della rotatoria per andare verso il villaggio Santa Barbara. Una situazione che è stata segnalata nuovamente alla nostra redazione di cui ci siamo già occupati in passato. Nonostante infatti nella rotatoria vi sia stato apposto un cartello dal comune che riporta la frase, le piante, la polizia e la quiete sono beni preziosi, rispettiamoli, la rotatoria sembra ormai essere stata abbandonata a se stessa. Stessa situazione nel villaggio Santa Barbara, dove la piazzetta delle Solfare e piazza Gesso Lungo sono state lasciate all'incuria, così come ci è stato segnalato da Vincenzo Lunetta, presidente dell'associazione di volontariato Arot. Questa non è l'unica piazzetta al villaggio Santa Barbara, la quale vediamo tutta questa arbaccia con zecche via di seguito, dove i ragazzi non possono neanche giocare e le famiglie non possono soffrire neanche delle panchine per stare un po' insieme e per far giocare i bambini. Proprio per questo motivo, ma non solo, come mi ripeto, qua ma anche nelle altre zone del villaggio. Abbiamo parlato di tanti problemi del villaggio, abbiamo parlato dell'abbandono, abbiamo chiesto alle istituzioni di non abbandonarci, ma noi adesso siamo stanchi, siamo troppo abbandonati. Noi lanciamo la proposta al comune, che se non ci sono fondi, noi, essendo che siamo un'associazione di volontariato, presciamo il nostro servizio volontariamente, basta che ci forniscono dei mezzi per poter togliere l'erba. Siamo disposti a collaborare a massimo, basta che ci danno la possibilità di farlo. Aspettando primavera Dai, dai, dai Siamo come fiori prima di vedere il sole a primavera Dai, dai, dai Respiriamo l'aria e viviamo Aspettando primavera Dai, dai, dai Dai, dai